Nihil sub sole novum, diceva un antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terzo di questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra disissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché grazie al tempo il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. Questo splendido stadio è stato a lungo il simbolo del dominio italiano in Europa. Amichevoli di lusso tra due squadre che non hanno nulla da invidiarsi null'altra. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. Partiti. Maldini. E' davvero una bella serie di passaggi questa. Kluivert. Da lì può concludere. Quest'erola è Kluivert. La palla va sul pane. Allontana il pallone. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Nettied. Grande occasione. Valtiro. Splendida reazione del portiere. Che classe. Ottimo salvataggio. Tu bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Sceglie di battere corto. Numero. La butta via e fa respirare la difesa. Occasione per il contropiede. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Quando arrirete. Prova a tirare. Grande occasione mappalo. Questo è fallo. Non ha dubbi l'arbitro. Palla. Cruz Milano sta mettendo gli avversari in difficoltà vuole chiarire la situazione fin dai primi momenti di gara cerca lo spunto pallone alto nello spazio spazza via senza bronzoli Nedved Scodella in avanti Cruz e se ne è andato al primo quarto d'ora niente gol né da una parte né dall'altra occhio al tiro Bicolano e se ne è andato al primo quarto d'ora e se ne è andato al primo quarto d'ora si spezza l'equilibrio dell'incorso ora hanno in mano la partita ma non possono permettersi cali di concentrazione lungo passaggio in avanti lungo passaggio in avanti Nedved la gioca corta ci mette il fisico e conquista il pallone ha provato a fare tutto da solo la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati ottima pressione la sua palla recuperata il portiere la spedisce su Nedved prova la verticalizzazione intercetta il passaggio pericolo buona nazione sulla destra vediamo come evolve Kluivert c'è un bel pallone occasione da rete un 1-2 veramente da KO era proprio sul filo del fuorigioco ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto 2-0 dunque con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità se ne va la mette in avanti si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa Maldini fa avanzare l'azione con il lancio lungo mette il turbo e passa si libera della palla ed evita complicazioni riceve in ottima posizione fa del suo meglio per allontanare il pericolo azione fallosa e se ne avviede l'arbitro qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze non finisce su referto per il momento l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto e quasi sicuramente proverà la conclusione a rete e questa può essere un'occasione fondamentale per chiudere magari la partita è un'occasione occhio alla conclusione prova ad andare via con eleganza approvato l'azione individuale senza successo però apertura ben calibrata decide di non rischiare risolve una situazione che poteva diventare insidiosa ci mette il fisico e conquista il pallone prova il cross salta e colpisce di testa ce l'hanno fatta proprio all'ultimo respiro di questo primo tempo un cross perfetto non poteva sbagliare c'era scritto basta spingere ha colpito bene con perfetta coordinazione gran colpo di testa c'è solo un la gara è ancora senza un vero padrone le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante primo tempo che si chiude con il punteggio di 2 a 1 e iniziano i secondi 45 minuti Medved decide di cambiare fascia contrasto irregolare dunque calcio di punizione e spinge il tentativo dell'avversario allontano il pallone buon lancio scatta verso il pallone il pallone è stato colpito troppo forte nebbietto continua ad andare palla al piede bel gesto tecnico Maldini Maldini e conquista la palla Maldini riesce a rubargli il pallone guadagna metri ottima pressione la sua palla recuperata riceve un pallone interessante intervento scorretto intervento scorretto sanzionato dall'arbitro il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo la difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo Proust si prepara a battere a rete questa è un'altra opportunità per rendere il vantaggio ancora più pesante ecco il tiro si è andato molto vicino però non ha trovato la porta c'è il colpo di testa ha fallito una clamorosa occasione grazie siamo arrivati al sessantese devono riprovarci questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile assolutamente Nedved riceve la palla si è vicinuito e deve tirare infilza il portiere ecco il pareggio davvero troppo solo troppo libero troppo tempo cosa ne pensi? gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro e lui si è preso e hanno completamente riaperto la gara sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta eccone la prova provano a ripartire da dietro la gioca in profondità sulla fascia in profondità può cercare il taglio in mezzo Maldini di forza Maldini recupera un pallone importante c'è Dio conclusione sul fondo si è mosso bene ma quando sembrava fatta ha sbagliato iniezione di energia proveniente da bordo campo chissà quali saranno gli effetti sulla partita una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte bella palla da largare gioco bella palla da largare gioco non è detto che finirà così prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti l'atteggiamento offensivo alla ricerca del risultato c'è ora devono avere solo fortuna prova a scalaccare avversari con una palla lunga si fa trovare al posto giusto e allontana è un grande riflesso qui grande occasione spregata qui le opportunità vanno capitalizzate è una partita tattica difficilmente vedremo tante occasioni ultimi controlli a bordo campo passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia c'è un doppio cambio l'assetto della squadra ora potrebbe cambiare radicalmente stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo uno sforzo incomiabile ben fatto è intervenuto quando c'era bisogno di lui passaggio sulla destra ci mette il fisico e conquista il pallone ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremisi sulla fascia è libero intervento rischioso il portiere ha fatto il possibile ma lui non si è fatto che fare ha depositato il pallone in porta con un bel gesto tecnico sono in vantaggio è tutto l'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara una battaglia dura prima un gol di differenza tra le due squadre ma alla fine credo che sia un risultato meritato una gara per risvolti drammatici decisa solo nel recupero hanno dato fondo a tutto quello che gli era rimasto nelle gambe a volte quando talento e qualità non bastano si fa risultato con grinta e caparbietà oggi è stato così siamo ai saluti finali un ringraziamento a Luca Marcheggiani come sempre a mio fianco